Si parlava di smettere qualcosa, smettere di fumare, smettere di avere qualche tipo di dipendenza. E' un problema, è un problema per me, per tutti. Però, per esempio, ci sono dei casi in cui riusciamo a raggiungere un obiettivo. Nel mio caso, per esempio, sono riuscito a smettere di fumare. E quindi, vabbè, poi dopo nel libro vedi che ho raccontato un po' la storia e quant'altro. Ma il punto in realtà non è proprio smettere. Il punto è che per molte persone, per esempio per me, è più facile iniziare qualcosa piuttosto che smettere qualcos'altro. Adesso, per esempio, sto iniziando a fare un po' di ginnastica. Mi metto lì dieci minuti al giorno, faccio i miei esercizi. Vedo che a distanza di un mese mi scende la pancetta, per cui sono contento. E non è che ho smesso di mangiare tanto. E non è che ho smesso di... Sì, vabbè, poi, è vero, in effetti ho smesso di mettere lo zucchero nel caffè. Questo è un ottimo consiglio per tutti, credo. Però, smettere di fare un piccolo dettaglio della propria vita, ce la puoi fare. Io penso che tu ce la possa fare esattamente come ce la faccio io. Smettere di prendere l'automobile quando è inutile, per esempio, no? Quindi, però è molto più facile se invece inizi a fare qualcosa. Nel caso del fumo è molto più facile se inizi a respirare o inizi a godere di qualcosa che ti piace fare nella tua vita. E questo qualcosa ti riesce molto meglio, per esempio, quando non hai del fumo nel corpo. Inizi a capire qualcosa di bello. E così, anche dal punto di vista degli esercizi fisici, nel mio caso, inizio a fare qualche esercizio. E piano piano, non subito in realtà, ma piano piano, adesso devo dire, sono al ventesimo giorno giù di lì, e senti che il corpo risponde, senti che il corpo sta un pochino meglio, e ti senti un po' più vivo. Ecco, questa è la cosa bella. E chissà cosa si può fare per l'amore. Prima o poi cercheremo di capire anche, adesso forse con la Francesca stavano cercando di scrivere qualcosa relativamente alle dipendenze affettive, che però è una sfida difficile, per cui, boh, ce la faremo, non lo so. Con Eugenio stiamo cercando di capire dove si arriva, qual è il limite delle dipendenze, e quando è che iniziare qualcosa ci aiuta veramente, o quando è che stiamo quasi bene con le nostre dipendenze, e quindi magari ce le vorremmo tenere. Tutte queste cose saranno parte di qualche tipo di progetto di cui non ho idea. Adesso devo scappare, che devo andare a prendere la mia bellissima bimba all'asilo. Altro progetto della vita che si può iniziare a fare, per esempio, cari amici, che aspettate di avere 44 anni prima di fare il primo figlio. Che problema c'è? Insomma, iniziate un progetto nuovo della nostra vita, un vostro progetto un po' pazzo, perché bisogna essere un po' pazzi per fare dei bambini in questo secolo. Però, insomma... Che cosa vuoi che ti dica, caro amico di internet? Devo andare. Basta, basta. Staccali e via. Inizia a fare qualcosa. Inizia anche tu a fare qualcosa oggi. Adesso, dopo che hai visto il video, inizia a fare una cosa nuova. Ci sono delle app fantastiche che ti aiutano a iniziare e a tenere traccia, soprattutto, di quando stai iniziando una cosa. Perché le cose che inizi non iniziano all'istante. Iniziano con un processo, che tipicamente dura almeno 30 giorni, dopo dei quali si dice che l'abitudine comincia a radicarsi. Per cui, inizia i tuoi 30 giorni di qualcosa. Ecco, questo potrebbe essere una buona cosa concreta per il nostro progetto. Dove andrà il nostro progetto? Dove andrai tu? Dove andrò io? Non lo sappiamo. Non ne abbiamo la più palida idea. Però lo dobbiamo fare con coraggio. Lo dobbiamo fare per il bene che vuoi a te stesso, per il bene che io voglio a me stesso, per il bene che vogliamo al mondo, forse, se ne vogliamo anche solo un pochino. E per lasciare qualcosa di bello agli altri, che io penso che sia una delle soddisfazioni che... che meritano. Che meritano. Bene. Detto questo, scusa questo video è un po' confusionario, ma forse magari non è neanche tanto confusionario. Non lo so. Spero che tu ne abbia tratto qualcosa di interessante. Giù nella description trovi un po' di link di cose che ti ho detto. Compresa l'app bellissima che sto usando, ragazzi, su Android. Si chiama Loop. Gratis. Bellissima. Senza pubblicità. Fantastica. Fantastica. Oh! Oh! Pare che questo sia un videoblog. Mi dicono che questo è un videoblog, quindi adesso muoviamo il mouse per spegnere il videoblog. Ciao ragazzi! Ciao al videoblog!